Il calcio sarà solo un gioco, ma è un gioco sempre più milionario, dove per alcuni pagare le tasse è solo uno spiacevole contrattempo. Si sta ingrossando come un fiume in piena il caso dei Football Leaks, lo scandalo scoperchiato da un consorzio di giornali che ha portato alla luce un gigantesco giro di false fatturazioni ed evasioni fiscali. Al centro dello scandalo il superagente Jorge Mendes, portoghese e rappresentante di campioni come Cristiano Ronaldo del Real Madrid o l'allenatore dello United, José Mourinho. Il solo Ronaldo è sospettato di aver dirottato circa 150 milioni di euro, di cui si sono perdute le tracce. Come per i Panama Leaks, i media coinvolti in questa investigazione congiunta hanno avuto la possibilità di consultare milioni di documenti e pubblicheranno poco a poco i risultati di sette mesi di indagini. Al di là dei nomi, il sistema architettato sarebbe abbastanza semplice. Le stelle del calcio avrebbero ceduto i diritti d'immagine a società residenti in paradisi fiscali e qui sarebbero confluiti i proventi delle sponsorizzazioni. Non nei contratti con le società. Il gruppo di Mendes ha fatto sapere che Mourinho non avrebbe pendenze con il fisco iberico, ma le indagini sembrano solo all'inizio. Diversi anche i club italiani coinvolti, Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Torino e Palermo. Anche in questi casi tutto si sarebbe sviluppato con un giro di triangolazioni, false fatture e prestanome che potrebbero trascinare queste società in grossi problemi. Fra gli altri campioni coinvolti il colombiano Radamel Falcao e l'ex centrocampista del Real Madrid Özil.